Allora, questa qui è la nostra barbera d'asti, si chiama La Baccalera perché prende il nome del cru, dal quale noi appunto prendiamo le uve per la sua produzione. È una barbera vinificata interamente in acciaio e affinata sulle fecce fini, sempre in acciaio per circa un annetto e poi fa ancora un po' di affinamento in bottiglia per altri 3-4 mesi. Quindi è la nostra barbera, il nostro rosso di ingresso, in quanto in linea abbiamo altri due vini rossi in versione strutturata e barricata. Il colore è il colore classico e tradizionale della barbera, è un colore rosso intenso, è un rosso rubino intenso con qualche sfumatura e violace in quanto è molto giovane, è una barbera del 2021. I sentori sono quelli tradizionali della barbera, quindi le more, i frutti di bosco, le spezie come la liquirizia, abbiamo un po' di pepe nero e in bocca, l'acidità risulta essere decisamente interessante, abbastanza alta. Abbiamo una leggera presenza di tannini, però nel complesso risulta essere molto rotonda, morbida ed elegante.